La consultabile in biblioteca ha a Treviso la raccolta digitalizzata del settimanale Il Lavoratore che la CGL ha deciso di donare alla città. Oggi noi riconsegniamo alla città un piacere, tra virgolette. Nel 1911 il comune di Treviso con 2.500 lire dà un sussidio per fondare la Camera del Lavoro. In un percorso che parte da lontano per la Camera del Lavoro a Treviso oggi ristituiamo un patrimonio a compensazione di quel sussidio. Con il primo maggio alle porte la CGL dona alla città la raccolta digitalizzata del settimanale Il Lavoratore fondato nel 1899 e fino al 1925 espressione del Partito Socialista della Marca e testimonianza delle lotte, delle tensioni vissute dal movimento operaio a cavallo della Grande Guerra. Una raccolta, un patrimonio collettivo, pubblico, importante che noi in qualche modo ci siamo impegnati a costruire e appunto adesso a donare alla città di Treviso in modo simbolico poi perché possa diventare strumento per le scuole e chiunque ne voglia fare uso. Nelle biblioteche trevigiane di queste testimonianze finora non c'era traccia. CGL e Istresco hanno colmato questo vuoto donando alla città un pezzo della storia della Camera del Lavoro. Di importanza non solo di carattere storico ma anche di carattere politico e umano. È una storia che non andrebbe mai dimenticata. Il fatto di averlo in forma digitalizzata accanto anche al volume che lo accompagna è una grandissima occasione. Dove sarà custodito? Credo che il posto naturale sia naturalmente la biblioteca alla quale daremo l'incarico di essere il luogo nel quale gli studiosi, gli studenti, i cittadini possono indirizzarsi per avere questa documentazione. Promosso dall'Istituto per la storia della resistenza anche il volume di Livio Vanzetto, Uomini e storie della sinistra strevigiana, nelle pagine del Lavoratore presentato a Santa Caterina.